amici di bici da strada ciao a tutti oggi ci troviamo a Reishof nel cuore della germania a circa una cinquantina di chilometri da colonia e siamo venuti qui nel quartiere generale di Schwalbe per scoprire come nascono gli pneumatici della casa tedesca per chi non lo sapesse Schwalbe nonostante sia un colosso mondiale è un'azienda a conduzione familiare giunta alla terza generazione da oltre 50 anni da lontano 1973 l'azienda è specializzata nella produzione di pneumatici per bici quindi mountain bike bici da corsa gravel e qui nel headquarter di Reishof c'è tutto il reparto di ricerca e sviluppo marketing mentre invece la produzione grazie a una partnership con un'azienda coreana avviene nel avviene in Vietnam ci troviamo all'interno dello stabilimento di Reishof che si sviluppa su una superficie di 2200 metri quadri e qui all'interno di questo gigantesco magazzino si possono stivare fino a 4 milioni di prodotti ovviamente parliamo di pneumatici da bici qui ogni giorno mediamente arrivano dal Vietnam circa 3 container in grado di contenere una media di circa 10 mila prodotti per container quindi qua ogni giorno arrivano circa 30 mila prodotti poi ovviamente dipende dal tipo di pneumatico perché ovviamente quelli da fuoristrada sono più ingombranti e pesano di più quindi occupano più spazio all'interno di un container rispetto invece a un pneumatico dedicato al gravel o al mondo stradale stiamo entrando all'interno del cuore dei laboratori di Svalbe dove avvengono tutti i vari test di ricerca e sviluppo per creare nuovi prodotti da qui in poi tutto è segretissimo qui ragazzi siamo all'interno del laboratorio dove avvengono tutti i test di ricerca e sviluppo per testare per esempio la resistenza al rotolamento e lo snack bite sulle mie spalle per esempio possiamo assistere a un test di durabilità dello pneumatico ossia si cerca di capire quale può essere la durata media di un nuovo prodotto come potete vedere dietro uno pneumatico che trovate sui scaffali di un negozio c'è un lavoro di ricerca e sviluppo davvero impressionante vi segnalo che tra quando gli ingegneri mettono in campo l'idea cominciano a svilupparla e trasferiscono i risultati nei laboratori giù in Vietnam passano appena tre settimane per avere il prodotto qui negli stabilimenti tedeschi in modo da poter effettuare tutte le verifiche controlli del caso col nuovo prodotto prosegue la nostra visita all'interno degli stabilimenti di Svalde come potete vedere sono estremamente moderni questo stabilimento ha circa tre anni e loro sono estremamente fieri di questo impianto perché è stato realizzato al 100% con materiali riciclabili quindi con una grandissima attenzione all'ecosostenibilità su questo pannello troviamo tutta la storia dell'azienda tedesca un'azienda che nasce nel 1922 quindi ultracentenaria ma che solo nel 1973 si dedica completamente alla produzione di gomme per le nostre amate biciclette voglio raccontarvi un aneddoto questa che vedete alle mie spalle potrebbe tranquillamente essere l'antesignana delle moderne gravel nel 1981 un professore, un tale Wolfgang Reich interpellò ben 80 aziende produttrici di componenti per biciclette perché voleva intraprendere il giro del mondo sulle due ruote e mandò delle lettere interpellando tutte queste aziende per sapere quali potevano essere i componenti migliori per effettuare questa impresa ebbene solamente 7 gli risposero offrendo gli prodotti da catalogo e solamente Schwalbe si offrì di sviluppare uno pneumatico specifico per questa impresa pneumatico che di lì a breve sarebbe diventato il cavallo di battaglia della famiglia Marathon per imprese di durata come questa sulle due ruote e tra i punti di forza dell'azienda tedesca sicuramente segnaliamo la collaborazione da oltre 50 anni dal 1972 con l'azienda sudcoreana Jung A che contribuisce allo sviluppo dei pneumatici Schwalbe con un sito di produzione in Vietnam questa ragazzi è la parte più interessante perché qui viene spiegato dove Schwalbe approvvigiona le forniture di gomma naturale come potete vedere il mercato principale lo troviamo in Indonesia precisamente a Jakarta qui non vengono utilizzate piantagioni che ovviamente non sono ecosostenibili bensì grazie anche a un progetto di finanziamenti viene utilizzata gomma naturale e viene raccolta all'interno proprio della foresta pluviale e di cui poi viene trasportata nello stabilimento vietnamita questo permette a Schwalbe di fare, se così possiamo dire, una produzione ecosostenibile di tutti i suoi prodotti noi siamo giunti al termine di questa giornata di visita all'interno dello stabilimento qui in Germania e se avete domande da fare vi aspettiamo nei commenti qui sotto e come sempre se vi è piaciuto questo video metteteci un like, iscrivetevi al nostro canale YouTube e non dimenticate di seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram e naturalmente sul nostro sito bici-dastrada.it noi ci vediamo sui trail, ciao!